Evasione e frode fiscali milionari a Pescara, sequestrati i conti correnti bancari, un elicottero e una Porsche per un valore di quasi 2 milioni di euro. Con i proventi dell'evasione un imprenditore aveva acquistato beni di lusso che poi gestiva per quanto lucrato dall'utilizzo di fatture false. E quanto hanno scoperto gli investigatori del nucleo di polizia tributaria della finanza di Pescara. A conclusione di verifiche fiscali nei confronti di tre società pescaresi, riconducibili al medesimo gruppo familiare, operante nel settore della manutenzione e della bonifica dei serbatoi per impianti di distribuzione e raffinazione di idrocarburi. Si tratta della Ecopetrol di Civitacuana, diretta da Luciano Petrocco, ex consigliere provinciale del PDL. Le attività ispettive partite dall'incrocio delle banche dati da un attento controllo economico sul territorio avevano portato alla luce redditi sottratti a tassazione per oltre 4 milioni di euro e un'evasione di IVA per quasi 2 milioni. Era così scattata la denuncia dei legali rappresentanti delle società controllate per omesso versamento di imposte. Le successive indagini hanno consentito di chiarire che l'imprenditore Dominus delle aziende utilizzava una delle tre società, creata ad hoc, esclusivamente per gestire beni di lusso, acquistati con i proventi dell'evasione fiscale, sostenendo i costi con le provviste di denaro create attraverso fatture false emesse ed annotate dalle società del gruppo, a fronte di prestazioni in servizio in realtà mai eseguite. Tra i beni spiccano un elicottero Augusta Westland A119 Koala e una Porsche AG997 Turbo, mezzi utilizzati personalmente dagli imprenditori e dai suoi familiari. Al termine dell'indagine, il GIP del Tribunale di Pescara, su proposta della locale Procura della Repubblica, ha disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie dei beni degli indagati per un valore di quasi 2 milioni di euro. L'elicottero è quello utilizzato alcuni mesi fa da Petrocco per accompagnare il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, prima al santuario di San Gabriele e poi a Villa Celiera.